Scusi, scusi, scusi un attimo, scusi eh, senta una cosa, scusi, senta una cosa, quando passa il treno per Napoli? Eh no signorina, di passare passa, ma non si ferma. Ma come non si ferma? Sì, sono due mesi che non si ferma più. Ma perché? Eh, da quando ho prestato 200 euro al macchinista che non si ferma più, quindi per me, vabbè la mia, vabbè, vabbè.